Ciao a tutti, oggi si sono riunite in modalità congiunta la prima e la terza commissione per discutere di un progetto presentato dalla Cararese Calcio. In sostanza la Cararese Calcio si è proposta di organizzare, sia attraverso proprie rappresentanze, sia mediante degli esperti, alcuni incontri con tutte le scuole medie inferiori della nostra città. Tali incontri verterebbero su importanti tematiche, in particolare sull'educazione alimentare, nello sport e nella vita quotidiana, sull'importanza dell'attività motoria per la salute personale e sull'etica sportiva. Cararese Calcio inoltre si è proposta di distribuire agli alunni in parola alcuni gadget a proprio marchio, utili per l'attività scolastica e non solo. Ovviamente la proposta in parola è stata molto apprezzata non solo da noi della maggioranza ma anche dagli esponenti dell'opposizione.